Da questa splendida cornice anche un po' impegnativa vi giunga il mio saluto e anche il mio invito a partecipare al prossimo appuntamento dell'Operazione Cultura presso i locali del Santuario Maria Santissima di Loreto alle ore 19, domenica 19 marzo, rifletteremo insieme sul mistero pasquale, su come poter dire oggi il mistero pasquale, ecco, croce e resurrezione, due temi forse apparentemente scontati sui quali ci sembra di aver già riflettuto abbastanza, di sapere tutto, ma quanto incidono effettivamente croce e resurrezione nella nostra vita, i cristiani nella nostra vita di tutti i giorni, rifletteremo insieme su questo, vi aspetto.